Degrado e sporcizia in pieno centro, il comune corre ai ripari. Alvia da questa mattina la ripulitura di una delle arterie più lunghe e importanti della città, operai al lavoro su Viale Italia per sistemare sia i marciapiedi che le aiuole. Il servizio è stato predisposto dall'ufficio verde pubblico del comune capoluogo. Gli interventi affidati alla ditta Sava, aggiudicataria della gara, proseguiranno la prossima settimana con la pulizia dei marciapiedi e delle aiuole del primo tratto di Viale Italia che va dall'angolo di Via dei Concili a Via D'Orso. Al fine di garantire la sicurezza e la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, il comando della Polizia Municipale, attraverso un'apposita ordinanza, ha adottato gli opportuni provvedimenti per la disciplina della sosta e della circolazione nelle aree di Viale Italia interessate dai lavori. L'intervento era atteso da tempo sia da parte dei residenti che dei commercianti che più volte avevano lamentato l'incuria della zona. Fondamentale, una volta terminati i lavori, sarà procedere alla manutenzione. Viale Italia è infatti uno dei tratti più trafficati del capoluogo sia da parte dei pedoni che da parte degli automobilisti. In particolare il tratto a ridosso di Corso Vittorio Emanuele, sede della Movida del fine settimana, è spesso invaso da rifiuti e bottiglie di vetro. La manutenzione tocca al comune, certo, ma si spera che la pulizia della zona invogli anche i cittadini ad averne maggiore cura.